Siracusa è eseguita ordinaria di custodia cautelare in carcere e denunciate 4 persone per vari reati. La Polizia di Stato, notando che alcuni soggetti con limitazione della libertà personale non rispettavano gli obblighi cui erano sottoposti da giorni, ha inasprito ulteriormente i controlli al loro carico, segnalando all'autorità giudiziaria competente tutte le inosservanze. Ieri, data l'attenta attività di riscontro, gli uomini delle volante della squadra mobile a Redusea hanno eseguito una misura cautelare in carcere rimesso dalla Corte d'Appello di Catania nei confronti di Steven Merlino, di 20 anni, che si era reso responsabile di numerosissime violazioni. Inoltre, nella giornata attività di controllo del territorio, agenti delle volanti hanno denunciato un uomo di 45 anni per aver rubato un cellulare all'interno di un esercizio commerciale appartenente a una nota catena di negozi di elettronica. Un noto pregiudicato di 29 anni è sorpreso in Viale Scala Greca con un grosso cacciavite e un autoradio di una prestigiosa marca di provenienza furtiva per il reato di ricettazione e per possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso. Un giovane di 21 sorpreso ha un controllo in strada in possesso di un coltello a serramanico e un arrestato domiciliare di 31 anni non trovato in casa durante un controllo di pulizia. Nell'ambito dell'incessante lotta allo spazio e al consumo di droga che gli uffici operativi della Polizia di Stato di questa provincia stanno conducendo con successo da settimana e nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Lentini hanno denunciato un 42enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli investigatori del commissariato a seguito di indagini di Polizia giudiziaria hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell'uomo che ha consentito di rinvenire a sequestrare all'interno della camera da letto 350 grammi di marijuana e nel terrazzo di pertenenza dell'immobile una pianta di marijuana dell'altezza di 72 centimetri. Inoltre nel corso dell'operazione di pulizia gli agenti hanno effettuato un'altra perquisizione nell'abitazione del fratello del denunciato che è stato segnalato all'autorità amministrativa competente perché è trovato in possesso di una modica quantità di marijuana per uso personale.